Un tumore maligno di tipo germinale di 5 kg, grande quanto un pallone da calcio che continuava a crescere nel torace di Marco, un ragazzo di 16 anni proveniente dalla Bosnia-Herzegovina, è stato operato con successo all'azienda ospedaliera di Padova, un intervento che ha richiesto un grande lavoro di squadra tra le specialità coinvolte. Proprio nel mettere assieme le competenze diverse e di alto livello dei singoli gruppi che si ottiene un buon risultato, quindi la discussione nel gruppo oncologico misto e multidisciplinare l'abbiamo da anni e poi a seconda dei casi dobbiamo chiamare ulteriori competenze che in questa azienda ci sono a tutti i livelli. Un'operazione difficile appunto che ha coinvolto il gruppo oncologico multidisciplinare riferimento nazionale che si compone di oncologi, chirurghi, radiologi e radioterapisti. Mettere insieme le equip, le competenze e trovare il giusto equilibrio tra tutti è stato sicuramente un grosso impegno organizzativo prima dello svolgimento dell'intervento chirurgico che anche se appunto temporalmente ha richiesto poche ore ha comunque richiesto un grosso impegno da parte di tutti. Il lavoro di squadra è da sempre una delle eccellenze dell'azienda ospedaliera Padovana. Io sono cresciuto lavorando in squadra, fortunatamente c'è sempre stato un ambiente molto positivo con i chirurghi, con i radioterapisti, quindi è forse una tradizione di Padova che io ho ereditato e che devo portare avanti poi con i medici più giovani. Ora il ragazzo è seguito a distanza per il monitoraggio post intervento grazie alla telemedicina. La telemedicina sta diventando veramente uno strumento importantissimo, sta crescendo nel tempo il suo utilizzo, naturalmente l'epidemia del coronavirus ha molto sviluppato questo tipo di strumento. Ricordiamo che la telemedicina vuol dire televisita, vuol dire teleconsulto, vuol dire telecontrollo, vuol dire telemonitoraggio e teleassistenza, cioè ci sono tanti aspetti che vengono compresi all'interno della telemedicina. Ma è ormai una tecnologia, una modalità di lavoro che è quotidiana per noi e che lo sarà sempre di più.